In questa live di un gioco molto sexy, si chiama Lingerie Soul Potremmo trovare un'anima con delle mutandine sexy? Questo non lo so, scoprilo con me in questa live Oh, ma... sfregala, 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 non si sfrega? No raga, qua c'è il genio della lampada, sfrega sta cosa, ma è un po' cupetto questo gioco, è un po' cupetto Sono mamma e papà quelli? Ah, i nostri parenti sono sposati, sì Ma poi si può prendere... posso fumare? Eh, che si perfuma! C'è la Madonna, bella compare, grande la Madonna, la Madonna nei giochi horror c'è sempre Bellino, poi sembra un grandangolare, ho gli occhi a grandangolo Oh, c'è il panino del Mac, ok, KFC questo, questo è il marchio KFC Oh, buono, tostarello, questo fa colazione col Mac, questo c'è un toster e fa colazione... Oh, c'è una chiave, I don't know, c'è una chiave, la prendo Comunque questo sta facendo la cena, lei sta pranzando con i tortellini in brodo E questo sta a mangiare il toast Ora, io, in che cazzo di famiglia viviamo? Siamo in America? Buonasera, ah, siamo credenti in questa casa, c'hanno i crocifissi ovunque Uè, minchione! Forza Dio! Ah no, io, io, tifo tantissimo per Gesù Tifo tantissimo per Gesù, eh Viva Gesù! Però ci sono un sacco di mosche, ma che è? Caduto da solo? Io non c'entro niente, non c'entro Sì, ma, scusate, ma non c'è una torcia, non c'è un... Non c'è la torcia, raga Io però ho la chiave, aspetta, io ho la chiave Fermi tutti Red key Black key No, raga, non è, chissà, una bella black Questa è la blue key Mi serve la blue door Vediamo se la troviamo Ah, questo è un altro coci... Eh, mica l'avevo visto questo Vediamo se questa è la blue door Oh, un chest Ma che goccio, la merda? Ehi, la? Oh, guarda! Bellino Bello, ho trovato un... Belli, belli Beh, ti serve? Lo volete? Qua non era morta la tizia? Ma quale tizia? Ah, la tizia nel bagno è morta, sì, sì, sì C'è nessuno? Sta sgocciolando Eh, ma chi è che sgocciola? Ma se me ne vado prima? No, non posso andarmene adesso Ah, sarebbe stato troppo facile, giustamente Forse è sangue Ma la tizia è morta nel bagno, ragazzi E lui ha detto che ci mandava la polizia Belli i rotoli di cartelli Ma che me ne faccio dei rotoli di carta igienica? Madonna, questo è il tipico suono dei bagni horror, cazzo Forse c'è un altro piano? Eh, ma non posso andare, perché... Però mi sta piovendo in te... Mi piove in testa Boh, ragazzi, ma che minchia devo fare? Già mi pidevo Riega! Oh, c'è il tamagotchi! Minchia, quanti tamagotchi mi sono morti nella vita, cazzo di Eva I guantani da box Questa è mezzia bellata col cerchietto C'è una porta blu Oh, perché sfarfa? Oh Buonasera Buonasera Come va? Buonasera Signora Signora mi suggerisca La signora mi ha rotto la lampadina, però Signora Ciò che rompe ripaga, eh, signora Onestamente Cioè, non è che posso darle io Qua E tutti i soldi Pa' a casa Signora, devi pagare 100 euro, signora Mi deve sganciare i sordi adesso Sentite ragazzi, io mi sento assicuro con i crocifissi Onestamente Quindi Qua la Madonna non fa niente, Madonna a lei Ehi là C'è nessuno? Questa è mia nonna Nonna Mamma mia, quanto tempo, nonna Babà c'è la Green Key nella stanza davanti alla cucina E perché non l'ho vista? Ma, vabbè, ma state scherzando Ma come ho fatto a non vederla? Ma che schifo l'ha vista Ma che schifo l'ha vista Vai Oh È la stanza del letto di una ragazza? È la ragazza quella che si è uccisa? Se mi spunta dall'armadio mi viene un infarto, eh Io lo dico Ha sbattuto il mignolo Penso di sì Signora, tutto bene? 3-5-2 i dadi 3-5-2 Me le ricordo, me le ricordo 3-5-2 Ricordato, segnato Segna anche i colori E i colori sono quelli delle chiavi Serve la blu e la rossa No, raga Ma porca traio Chi è che ha bussato? Sì? Chi è che ha bussato? Signora? C'è qualcuno? Ma che ci sia qualcuno? Guarda Raga, ma c'è qualcuno che si sta muovendo? Salve Io non vedo nessuno È Polina? Sarà Polina che ci deve scassare la minchia Polina? Polina, ma visto che sei morta Puoi rimanere morta ancora per un po'? Chi è sta Polina? È quella che è morta Ragazzi, sono dei suoni abbastanza ambigui Aspettate ragazzi Perché è possibile che ci sia qualcosa tipo qua Sì? Pronto? Sì? Chi è? Hanno citofonato Signora? Sto arrivando Sono alla porta Ma non c'è nessuna Sta Madonna farà qualcosa prima o poi Ve lo dico io Preparatevi alla Madonna Devi trovare un anello Un anello? Ma l'anello qua non ce n'è Si può riparare quel pannello elettrico? Mi sta facendo impazzire Basta bussarmi alle cazzo dei porte Non ti ho fatto niente Non ti ho fatto What the fuck? Ragazzi non c'era questa prima eh Allora avete detto 3 5 2 Yes Chiave rossa Ok Chiave rossa presa Io vado eh È la stanza di un ragazzo? Halloween Oh no Che cos'era? Chi era? Era Polina No quella non è Polina È Polina Polina Oddio Polina lasciami in pace Polina Va te la piglia nel culo Io la voglio salvare Paolina Qua Polina Poli Paolina Oh Presseci Ma sei sci No ragazzi No Io ho già imparato Raga io ho brutte esperienze No te prego Vabbè se non spunta niente va bene Allora ragazzi si è spostata la Madonna Non è una bestemmia ma si è spostata la Madonna raga Non c'entro niente Non c'entro nulla Non c'è No raga No raga No raga No raga No 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 Ma non si può giocare così dai Ma così mi verrà un infarto Ma la posso attaccare sta cazzo di corrente elettrica Oddio La Madonna Buonasera Madonna Come va? La Madonna è posseduta signori La Madonna è posseduta Ripeto 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 La Madonna è posseduta Come va? Fa la tocco? Tocco la Madonna? C'è qualcosa che non quadra No No raga Dio santo Io questi giochi li odio C'è Sì ma non ruttare Che schifo Non ruttarmi addosso Sta salendo l'acqua Raga Oddio 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 raga Mi prego Bastardi Questa era la demo comunque Deve uscire il gioco ancora Bello Beh se la demo è così In gioco Penso che sarà ancora più bello No